allora è che c'è qua 100 100 100 siamo arrivati è 100 iscritti voglio ringraziarvi a tutti uno per uno anche se poco meno della metà sono amici e parenti poca gente è poca gente comunque sia resto tutte persone che non conosco sono contentissimo di questo continuo a ringraziarvi mi vedete un leggermente più sorridente in realtà sono così diciamo che i video che parlano telefono c'è sempre qualcosa che i video che parlano di business e tutto il resto non sono il massimo della felicità diciamo però c'è 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 allora io vi do appuntamento come sempre a mercoledì forse cambierò gli orari forse farò uscire due video a settimana però faccio questo video soltanto per ringraziarvi tutti quanti siamo ad oggi 113 iscritti la prima meta l'abbiamo raggiunta anche in un tempo che non speravo e adesso chi lo sa forse ci vediamo per un prossimo video per i 500 per i 1000 e magari un giorno faremo pure 100 mila 500 mila però dai vi mando un grande abbraccio vi ringrazio ancora tutti quanti continuate a seguirmi già sto a fare più serio stiamo rientrando no dai condividete 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 mettete pollicioni in su e fatemi domande e ricevo pochissime domande alla finché non divento famoso bello e ricco forse sul famoso si può fare qualcosa su ricco pure sul bello vediamo vediamo però diciamo che il fascino del ricco va va quindi dicevo prima di diventare bello famoso e ricco vi conviene farmi domande che ancora le domande ho molto piacere di rispondervi ho ancora abbastanza tempo per rispondervi quindi sfruttate l'occasione fatemi le vostre domande ditemi i vostri pensieri se avete qualche qualche idea di business qualche cosa qualche progetto domandate io sono qua sono lieto di rispondervi di darvi qualche consiglio eccetera 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 il microfono acceso si l'abbraccio a tutti e grazie ancora cento cento